Salve a tutti ragazzi, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video. Cosa succede al mercato delle criptovalute? Andiamo a vedere un pochino e noi ci vediamo, andiamo a vedere ovviamente facendo analisi sul mercato andiamo a vedere perché le criptovalute stanno scendendo, di quanto è sceso Bitcoin e così ci rendiamo un po' conto della situazione attuale. Ragazzi iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, noi ci vediamo prestissimo grazie per l'attenzione e buon trading a tutti. Ciao! Bene ragazzi, eccoci qui davanti al grafico e andiamo a vedere un po' che cosa sta succedendo sul mercato delle cripto perché ieri è stata un po' una giornata movimentata. Allora, prima di tutto andiamo qui a soffermarci sui valori di market cap che sono ancora molto bassi, siamo a 211 billion dollar, quindi la market cap ormai è andata al di sotto di quella che era una struttura importante, l'ho fatta vedere più volte, sui 250 miliardi di dollari. Che cosa stanno facendo le criptovalute? Allora, Bitcoin sta leggermente recuperando, vedete ha recuperato qualcosina, si è messo intorno ai 6500 dollari, ieri c'è stato uno spike che l'ha fatto arrivare, di questo parleremo anche ai 6900 dollari, spike dovuto a enorme manipolazione che c'è stata sui mercati e guarda un po', è avvenuta proprio a ridosso dell'annuncio e della maintenance sui server di BitMEX, quindi molti si stanno interrogando se è una coincidenza, certo per essere una coincidenza è un po' strana. Allora, Ethereum è invece fermo a 277, lo vedete anche negli ultimi giorni si sta muovendo pochissimo, stesso discorso per Ripple che è a 0,32 dollari, Bitcoin Cash a 5,29 recupera un punto percentuale, 3 punti percentuali li recupera EOS, fa meglio Stellar con il 5,50 si riposiziona a 0,22, vedete ha recuperato un po' dal bottom, dai minimi che aveva toccato. Insomma, ci apprestiamo ad arrivare al weekend con un piccolo rialzo da parte delle criptovalute, non tutte ma diciamo così almeno le più seguite. Che cosa è successo ieri sul mercato di Bitcoin? Sulla price action di Bitcoin? Guardate qua ragazzi che spike che si è verificato, guardate questa candela qui che c'è stata e andiamo, vi faccio, andiamola a vedere sul, mettiamoci su 4 ore, così ci concentriamo meglio. Ok, allora, posso zoomare anche un pochino, eccoci qui. Guardate l'area di attenzione è questa qui e vedete che la price action di Bitcoin si era posizionata su, all'interno di questa, questa rappresentava una struttura, stava intorno ai 6.600 dollari, vedete qua volendo dal punto di vista di analisi tecnica, siamo sul 4 ore ragazzi, è un esercizio e niente più, si era formato questo triangolo ascendente e guardate come il prezzo a un certo punto qui ha rotto, ha fatto questo spike velocissimo e questa candela che è passata dai 6.400, ha sfiorato i 7.000 dollari a 6.900 dollari, dopodiché è tornato dentro quella che possiamo ormai chiamare una safe zone per Bitcoin, è tornato dentro a questo triangolo. E che cosa è successo? È successo che ieri, l'altro ieri, il 22 agosto, insomma c'era stato già questo annuncio di BitMEX che avrebbe chiuso i server per fare un mantenimento e proprio vicino allo scheduling di questo maintenance c'è stato questo enorme picco di Bitcoin. Ragazzi parliamo di speculazioni enormi, c'è stata una liquidità che si è mossa, guardate, per 450 milioni di dollari e ovviamente equivalenti in Bitcoin e questo è stato il movimento, guardate anche i volumi, ve li posso far vedere qua, guardate qui, guardate questa candela qua di volume che cosa ha fatto e guardate poi questa successiva per far ritornare il prezzo esattamente dove stava. Ragazzi questo è una conferma, ormai se seguite il canale, se seguite il mercato sapete che non è più un segreto, è una conferma di quanta manipolazione c'è sui mercati, veramente tanta manipolazione ed è facile anche capire perché la SEC sta continuando a respingere ETF su ETF, avrete sentito notizia dell'altro giorno, ha di nuovo rejected, quindi non ha accettato l'ETF di ProShares e quindi di nuovo questo mi sembra che sia il nono ETF che rifiuta la SEC dopo quello dei gemelli, dei Winklevoss e adesso quello di ProShares e adesso rimane quello del CBOI che la scadenza mi sembra che è stata fissata per il 30 settembre, ma la verità è che la SEC secondo me quello di cui ha paura è che questo ETF qui per esempio era un ETF che non era collegato al prezzo di Bitcoin, ma era collegato al prezzo dei future di Bitcoin, future di Bitcoin che ha ancora poca liquidità, vi ricordo che i future di Bitcoin ragazzi l'hanno lanciato a dicembre, quindi c'è poca liquidità, ancora non è un grande mercato e la SEC è spaventata che possa crearsi un problema con un ETF che fa il mirroring del prezzo del future e non del prezzo di Bitcoin come asset e sicuramente la SEC è molto spaventata da che cosa? Molto spaventata dalla non regolamentazione di questi mercati e purtroppo quando succedono queste cose qua, quando succedono questi spike, non è che la SEC si tranquillizza, anzi. E allora qui la domanda è, perché la SEC non si muove per cercare di regolamentare questi mercati? Perché è tanto che ormai sta studiando la situazione e la sta guardando, fa affermazioni, prende posizioni, assume specialisti ed esperti ma non fa nulla? Tempo fa ci aveva detto che ci volevano tra i 9 e i 24 mesi, se ricordo bene, o i 9 e i 18 mesi per prendere una decisione, è passato qualche mese adesso e stiamo ancora in alto mare. Ragazzi staremo a vedere con quest'ultimo ETF della CBOE, ETF molto importante, vediamo che cosa succederà. Fatemi sapere come la pensate voi, soprattutto sulla storia di BitMEX, noi ci vediamo prestissimo, buon weekend a tutti e buon trading a tutti, ciao! Ciao! Ciao!